Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi ed io sono Marco Matarazzi, benvenuti al podcast ospitalità 4.0. Oggi parleremo di receptionist versus software. Da buon amante della tecnologia quale sono, quando vado in giro mi piace capire un po' quali sono i processi operativi digitali all'interno della struttura. Quindi cerco di capire che software utilizzano, se utilizzano una tessera per le chiavi vorrei capire qual è l'hardware che c'è dietro, al ristorante mi piace capire come prendono gli ordini col tablet, senza tablet, se in cucina addirittura hanno il kitchen display, quindi mi piace un po' vedere. Siamo che sei un po' curioso più che altro, via. Sì, mi piace vedere come lavorano le strutture ricettive, qual è la differenza magari di regione in regione, quindi ecco insomma ho questa peculiarità. E nel mio ultimo viaggio, nelle vacanze ferragostane in una struttura ricettiva, mi sono reso conto di una cosa di cui avevo consapevolezza ovviamente, però poi toccarla con mano è sempre diverso. Al momento del check-in parlando con la receptionist mi sono reso conto che faceva molte cose in maniera cartacea, quindi ok che aveva stampato l'elenco degli arrivi sul foglio, però segnava tutto su carta e penna. E allora prendendolo in giro ho detto ma siamo ancora al carta e penna? E la risposta è stata beh sì il software ce l'abbiamo ma io lo lascio lì neanche lo utilizzo perché è un po' vecchio, perché lo utilizza solo il direttore e quindi ci siamo messi a parlare del classico discorso di come arrivano le prenotazioni, di come vengono inviati i preventivi e ha detto sì sì insomma qui la situazione non va tanto bene ma fortunatamente alludendo al fatto che a breve se ne sarebbe andata no? Capirai immagino. E quindi lì è scaturita la riflessione se un receptionist deve fare a botte con il software o semplicemente depone le armi e se ne va a favore del software. Questo è un bellissimo quesito quindi la storia che tu ci racconti è una storia che penso che ha vissuto da tantissimi alberghi, probabilmente non quelli che ascoltano, ospitalità 4.0, però io parlando come fai un po' tu, anch'io sono un po' un curioso per non utilizzare un termine diverso, quando vado in hotel queste situazioni un po' si vedono, quindi una soluzione software antica portata, lasciata lì da una proprietà che, passatemi il termine un po' se ne frega, c'è il tipo tanto poi ci pensano loro e quello che vedi sono questi addetti al booking oppure alla reception, quindi i vari dipartimenti lì del front desk che sono oberati di lavoro a fare lavoro ridondante, a fare lavoro macchinoso, a lavoro poco gratificante. E quello che credo è che operare in questa maniera giorno dopo giorno logora, perché non ti permette di dare il 100%. Il 100% consiste nell'offrire ospitalità, quindi curare il cliente, assecondare per certi versi anche le richieste che ha, poter spaziare anche su altri reparti, quindi magari poter vedere, avere controllo della parte del pricing, avere controllo sulla parte distributiva, avere un po' tutto sotto controllo. Da quello che mi raccontavi, queste persone qui mandavano i preventivi ancora tramite email, scrivendoli a mano uno dopo l'altro e la parte del booking engine era staccata dalla parte del gestionale, quindi anche gestire le chiusure poi sui portali diventava difficile perché il PMS da una parte e il CRS, quindi Booking Engine Channel, da un'altra. E nonostante queste persone abbiano chiesto più volte di passare a dei software più moderni, non parlo solamente di software più integrati o chissà come, ma semplicemente più moderni, la risposta è stata PIC. Allora, da imprenditore mi domando, conviene perdere una figura centrale come quella del receptionist che sta lì frustrato giorno dopo giorno o di vederlo demotivato, che poi diventa un po', come dico spesso, la mela marcia dentro il cestino che poi contagia tutto quanto il cestino e tutti quanti si scoglionano quando vedono una persona che è giù di morale, oppure conviene in qualche modo, non dico assecondare ogni capriccio, ma se non altro mettere le persone nelle condizioni di lavorare con gli strumenti giusti. Tu come la vedi? Allora, io credo che, come sempre, in medio stat virtus, quindi bisogna un attimo cercare di trovare un equilibrio, sia tra la direzione che magari ha fatto una scelta, quindi vuole utilizzare un determinato software, e il receptionist che deve adeguarsi ai processi che ci sono all'interno della struttura. Sappiamo benissimo che in alcune strutture, specialmente quelle di mare, la figura del receptionist è stagionale, no? Ok? Quindi ci può stare. Bisognerebbe anche però capire come lavora questa struttura ricettiva. Io ho portato questo caso perché mi è sembrato eclatante, perché tutti erano incredibilmente scontenti del software gestionale, ma addirittura arrivava anche al ristorante che non sapeva, per esempio, la cucina, quante persone ci fossero in soggiorno. Quindi facevano fatica anche a gestire la parte dei pasti, perché vendevano in mezza pensione. Lì, secondo me, la situazione diventa deleteria. Lì l'hotel rischia di perdere veramente delle entrate, soprattutto perché poi, e questa è stata la cosa che mi ha dispiaciuto di più, si innescano delle dinamiche a cascata che sono ingestibili. Il receptionist lavora male, il direttore è abituato a lavorare in una determinata maniera, quindi non vuole cambiare, il software rimane quello. Tutto viene contagiato, anche l'ospite finale che poi irrimediabilmente qualche problema lo incontrerà. E noi ovviamente abbiamo avuto il classico problema dell'addebito dei servizi extra al momento del checkout, che c'erano state addebitate delle consumazioni che non esistevano e abbiamo scoperto poi che c'erano state invertite con quelle di un'altra camera. Quindi ecco, insomma, poi ricade tutto a cascata. Il receptionist è infelice, il direttore vuole lavorare in un determinato modo, perché è abituato in quel modo da 30 anni, perché ha fatto sempre in quel modo. E alla fine il cliente finale che lo percepisce questa cosa, perché si percepisce, in qualche modo ne viene leso. Però secondo me non dipende solo dal software gestionale, quindi non è che dici se passo a un software gestionale moderno questo problema lo risolvo. No, il problema è a livello di processo, a mio avviso. Ovviamente se ti mancano gli strumenti giusti, mancano i presupposti per lavorare bene e lavorare bene diventa più complesso. Tuttavia a linea di massi, ma il problema spesso è che i processi non sono chiari. Non è chiaro chi deve fare che cosa e come devono essere passate le informazioni tra le varie persone e tra i vari reparti. Quindi c'è una mancanza di chiarezza nella comunicazione. Per creare dei processi che funzionino, non dico di incasellare tutto in delle operazioni robotiche, per carità, però è importante che chi è ai vertici si prenda la responsabilità di dire, in queste casistiche funziona così. Te lo scrivo, te lo metto come appunto, lo lascio stampato in bacheca. In qualche modo cerco di spiegare come gestire le varie casistiche e prenderci giusto la responsabilità che serve nel caso in cui ci sia qualcosa che va storto come quello dei tuoi addebiti. Poi ovviamente se avessero utilizzato un sistema che funzionava, che non era carta e penna, probabilmente quell'addebito sulla tua camera non ci sarebbe finito e il problema non ci sarebbe stato e quei 20 minuti lì a discutere, a capire cosa è successo, l'hotel l'avrebbe impiegato per fare qualcos'altro. E ricordiamoci sempre che anche il tempo, anzi, soprattutto il tempo e denaro. Quindi in questo caso sarebbe stato decisamente meglio investirlo diversamente. Quello che dici te è corretto, tanto più che noi per esempio abbiamo avuto questo tipo di problematica che nei periodi di alta stagione crescono questa tipologia di problematiche, non è che diminuiscono. Più gente. Esatto. Un altro problema è stato quello della tassa di soggiorno. Io sono d'accordo che non può essere solo un problema del software, però se io non so fare i conti, compro una calcolatrice. Idem, se non riesci a calcolare la tassa di soggiorno, prendi un PMS, un software gestionale anche dei più scarsi, passami il termine, in modo tale che quell'aspetto lì ce l'hai molto tranquillo, molto gestito. Prossimo Ferragosto però lavori, anziché andare in vacanza, perché qui mi pare che è andato malissimo tutto. Però vedi, è poi lì la differenza, perché già c'è sempre quel retaggio del oddio, forse mi vogliono fregare. Poi arrivi e ti trovi l'extra che ha calcolato male la tassa di soggiorno, non era il mio caso, che è stata sbagliata, perché spesso le tasse di soggiorno hanno anche delle logiche folli. Va detto anche questo, ci abbiamo dedicato anche una puntata. Sempre peggio, avevo il punto di vista lì. Quindi assolutamente. Poi prima parlavi della stagionalità del personale, io lì sono d'accordo in maniera parziale, perché credo che le figure cardine, quindi i receptionist, ci servano una persona storica, una persona in grado di, anche se è un albergo stagionale, di essere operativa quasi tutto l'anno, perché ricordiamoci che in certi mesi dell'anno si lavora per accogliere i clienti, in altri mesi dell'anno si lavora per distribuire, per ricevere le pronotazioni che arrivano per tutta quanta la stagione, per gestire i prezzi, per far sì che tutto sia pronto per il periodo di altissimo picco. E queste persone preziose che sono in gamba, che conoscono il nostro hotel, che si sanno interfacciare con il cliente, che sanno vendere le camere, queste vanno tenute extra da conto. Poi ci sono delle persone, magari come dicevi prima, che invece sono più stagionali e lì un software facile da utilizzare, semplice, con dei processi chiari, agevola, perché? Perché ti permette in due, tre giorni di essere operativo al 100%, quindi questa figura che arriva non devi imparare in tre mesi e poi ha finito la stagione, no, impara in due giorni e poi il resto del tempo continua a operare normalmente perché conosce quelle 10, 15, 20, 30 funzionalità del software che gli servono per lavorare bene quotidianamente. Questa è la triste realtà. E nel frattempo poi sotto l'ombrello mi sono chiesto, ma alla fine si può quantificare questo dato, quindi un software obsoleto, quanto ti fa perdere nell'effettivo? Ed ho trovato una ricerca del 2020 di Kaspersky, che è un noto antivirus, in cui tra i diversi dati che andava a snocciolare, dice che le aziende europee che usano tecnologie ormai sorpassate subiscono il 23% di perdite di fatturato in più rispetto a chi invece si tiene costantemente aggiornato. La percentuale aumenta per le piccole e medie imprese per le quali si è contata una perdita del 53%. Caspita, sono numeri grandi, parliamo di piccole e medie imprese e ricordiamoci sempre che il nostro hotel è un'impresa alberghiera, quindi è un'azienda a tutti gli effetti e dobbiamo noi essere degli imprenditori, quindi dobbiamo capire dove vale la pena investire e dove vale la pena non investire. A quanto pare, secondo questa analisi che dici, conviene decisamente investire nell'ambito tecnologico. Quindi questo è sicuramente perché ci fa lavorare meglio, ci fa guadagnare tempo, ci fa distribuire meglio, ci fa gestire meglio il pricing, poi esistono tantissimi software dagli RMS che si connettono ai PMS, che automatizzano il prezzo se li vogliamo utilizzare, ne abbiamo ovviamente parlato, il pricing dinamico che puoi fare dal tuo gestionale, i software che si connettono, oppure Slope che è un tutto in uno, che quindi può o connettere dei software esterni o funzionare da solo. Insomma, scegli tu la tua ricetta, scegli tu come creare i tuoi processi di lavoro quotidiane, di vendita, di pricing, eccetera, e poi dai ai tuoi collaboratori uno strumento che non sia solo funzionale, ma anche bello e gradevole da utilizzare, perché ci devono stare davanti tutto il giorno e a nessuno piace giocare con le cose brutte. No, 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 e questo discorso che fa i te rientra anche in quel famoso motto che ogni tanto citiamo, in cui si dice che l'albergatore non affitta le camere, ma vende ospitalità, no? E fare ospitalità rientra anche in questo, quindi non limitarsi a dare la chiave, ma a tutta una serie di processi che rendono perfetta quella che è l'esperienza del cliente, e questo fare ospitalità fondamentalmente parte dal presogiorno e termina nel momento in cui l'ospite torna a casa. Che non è solamente un esercizio di filosofia, ma sappiamo che numeri alla mano, se si dà ospitalità, se si guarda al dettaglio, quel cliente ritorna, quel cliente parla bene, aumenta la reputazione e il nostro hotel varrà di più, produrrà di più e sarà meglio per tutti. Quindi concentriamoci sul dare ospitalità, anziché cercare di appioppare delle camere a dei sciagurati che vengono da noi per vedere poi il circo dei nostri receptionist che litigano tra loro. Eh sì, e proprio il receptionist è una figura chiave in tal caso che, se correttamente formata, può fare la differenza sia dal punto di vista del revenue, ma anche dal punto di vista della reputazione, no? Sì, molto meglio dei software, secondo me. Quindi se tu hai delle figure cardine che lavorano bene, che conoscono il tuo albergo, come dicevamo prima, e che sanno vendere, quelle persone sono oro colato, vanno tenute ovviamente in considerazione, vanno messe nella possibilità di lavorare bene e ovviamente faranno poi il nostro gioco. Quindi ne traiamo vantaggio direttamente noi come albergatori. Sì, come sempre io lascerei la parola ai nostri ascoltatori che possono raccontarci anche le loro disavventure, perché la puntata è iniziata così. Possono mandarci un messaggio vocale whatsapp al numero 075 91 40782. Oppure possono scriverci a podcast.chiocciolaslope.it. Noi ci sentiamo ovviamente venerdì prossimo, come sempre, per una nuova puntata di Ospitalità 4.0. Un saluto a tutti da Guadudadino. Ciao! Ciao, ciao, ciao!